Domani un consiglio monotematico sull'aspetto della sanità, sempre un tema estremamente caldo, ancora a distanza di tanti anni. Sì, abbiamo come gruppi consigliari di Udc, Forza Italia, Progetto Fano, Fano Città Ideale, Lato a Fano, fatto una richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale monotematico sulla sanità e avevamo chiesto la presenza del Presidente della Regione Ceriscioli, che ha dato la sua disponibilità domani sera alle 19, voglio ricordare ai cittadini di intervenire, perché è una questione molto importante. Viviamo una fase molto drammatica della sanità locale, ci arrivano in continuazione lamentela da parte dei cittadini, situazioni veramente esasperate in alcuni casi e proprio per questo vogliamo porre l'attenzione su questo argomento che riguarda il quotidiano. Chiunque ha avuto a che fare con i servizi sanitari ultimamente ha trovato disservizi. E nonostante i proclami e le tante belle parole dette da tanti rappresentanti del PD, dallo stesso Sindaco Seri, ci siamo visti scippare completamente ortopedia, urologia, pediatria, la chirurgia, ma poi anche lo stesso chirurgia H24 e il codice rosso del pronto soccorso, di fatto oggi se c'è un problema si va al pronto soccorso di Fano, si viene spediti a Pesaro. Tutto ciò è inaccettabile, noi l'abbiamo denunciato più volte. Chirurgia H24 mette a rischio la vita delle persone, cioè si va all'ospedale di Fano e si viene trasferiti, non c'è qualcuno che risponde in maniera urgente. Per tutte queste cose abbiamo voluto convocare il Consiglio Comunale perché vogliamo delle risposte certe sul fatto che rimanga l'ospedale Santa Croce perché nonostante hanno tolto tutti questi reparti si va incontro alla firma di un protocollo dove si toglierà anche la possibilità di nascere a Fano, si nascerà a Pesaro d'ora in poi grazie a questo protocollo. E di fatto un ospedale che era un ospedale di secondo livello insieme a quello di Pesaro diventa di meno di un ospedale di base, cioè manco quello che è previsto del decreto Balduzzi. Sarebbe una vergogna che la terza città delle Marche non abbia un ospedale. C'è anche un momento di pubblica dimostrazione che avete intenzione di fare domani? Sì, abbiamo promosso questo sit-in davanti alla sala del Consiglio Comunale perché vorremmo anche ascoltare i cittadini che vorranno venire, sentire le loro esigenze, capire le loro preoccupazioni e raccogliere, come stiamo facendo, le tantissime denunce di disservizi e comunque di preoccupazioni di una situazione veramente drammatica che stiamo vivendo nella sanità.